Sono aperte le iscrizioni al seminario formativo di Raffaele Fiore uscire dal dolore tossico. Cinque appuntamenti online a partire da domenica 30 ottobre. Per info e prenotazioni rimandiamo ai link sotto al video o nel primo commento oppure su www.cavoresoterica.it alla voce eventi e corsi online. E dove partiamo? Dimmi un po' il programma di questo seminario che è propedeutico alla scuola che poi nascerà. Perché c'è l'esigenza di questa scuola, insomma ce la stanno chiedendo in molte persone, no? Perché c'è bisogno di sviluppare comunque uno sguardo alternativo rispetto allo sguardo organicistico, materialistico, vigente insomma. Anche perché non c'è guarigione in un certo senso, in quel tipo di sguardo, nella vecchia medicina. Esatto. Allora, quello che ancora oggi secondo me non è chiaro è che le parti separate, cioè le parti che non si parlano, non lavorano in sinergia dentro di noi, capisci? Cioè nella guarigione, ancora oggi, ma ancora tutte le persone che mi contattano con qualche problema di salute, con qualche problema che si ripercuote e che continua a ripercorrere la propria vita, sono persone che vivono in modo disintegrato, non integrato. Questo è il grosso pasticcio e tutto ciò che viene scritto sulla carta oppure detto di solito anche ai corsi teorici non viene mai utilizzato nella pratica clinica, cioè sostanzialmente, detto praticamente, no? Che è poi quello che dobbiamo dare con un corso, non possiamo dare solo elementi teorici, perché per esempio gli ipocondriaci si nutrono, ma si nutrono costantemente di elementi teorici, però non utilizzando mai il linguaggio simbolico, non passano alla pratica, cioè non riescono a tradurre in un esempio vitale, cioè quotidiano, quello che deve accadere. Beh, ti posso fare un esempio molto tradizionale, no? A qualcuno, per esempio, che fa un intervento chirurgico, è stato mai chiesto che cosa ha sognato la sera prima? È stato mai chiesto come ha immaginato la propria malattia e come sta immaginando l'intervento chirurgico? No, io credo che nella mentalità comune non si dà importanza al sogno, cioè cosa vuoi che sia? Uno fa un sogno perché è agitato o perché ha mangiato pesante o perché è spaventato dall'intervento, invece tu che dici? Beh, io penso che ci sia un sogno, soprattutto quello del mattino, che è molto contaminato, per esempio, dalle abitudini esistenziali, no? Come per esempio quello che dicevi, ho mangiato piccante, no? Ho mangiato troppo, ma c'è un sogno invece che attinge in un bagaglio molto più profondo e quello si attiva proprio nei momenti in cui sono in gioco delle forze importanti, perché quando io faccio un intervento chirurgico non attraverso soltanto un corpo fisico, ma attraverso un corpo eterico, un corpo astrale, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo vado a sabotare delle parti ciecamente che non so come si stanno comportando in quel momento. In antichità, ma già nella medicina galenica, ipocratica anche, era fondamentale l'immaginario della persona. Ti dava prima di tutto, ti dava una visione molto allargata di come quell'anima rappresentava la realtà interiore. È quello che poi Freud avrebbe chiamato il live e il corpo, cioè due modalità. Il corpo vero, quello materiale, che non è più importante del corpo immaginato, perché poi quando noi dobbiamo guarire, quando siamo nei processi di guarigione, dobbiamo utilizzare il corpo immaginale, non il corpo reale. Il corpo reale è suddito del corpo immaginale. Quindi sarà con un'immagine che ci ammaliamo e sarà con un'immagine che poi guariamo, capisci? E tutto questo, la medicina le ignora per questioni economiche, per questioni di tempo, per questioni di attenzione, per questioni di formazione. Ecco perché i corsi spesso mi vengono richiesti dai medici stessi, perché tutto l'altro bagaglio ce l'hanno, ma gli manca quello sottile. Gli manca come interpretare il sogno del paziente. E poi soprattutto faccio un esempio, mi arriva uno, adesso lo so che questo può sembrare dozzinale, ma mi arriva uno del leone che deve fare un intervento il 25 luglio. Vogliamo andare a vedere come sono posizionati alcuni pianeti. Questo Galileo lo faceva, questo Newton lo faceva, questo lo facevano anche alcuni psicanalisti molto illuminati. è per il fatto stesso che questo può cambiare la sorte di una degenza, la sorte di una convalescenza, ok? Quindi tutto questo va integrato in un'azione comune delle parti, altrimenti è solo un fatto teorico. Noi continuiamo a fare dei puzzle della realtà, ma non li assembliamo mai i tasselli del puzzle. In medicina questo è pericoloso, al punto tale poi, tu lo sai bene, lo dico anche in molti video, che possono essere integrate anche delle parti che vengono dal sociale, dalla storia, dall'economia, che poi sono rappresentate nella malattia che abbiamo, costantemente, no? Cioè, come dico sempre, il traffico delle strade è il traffico delle nostre arterie, no? Senti Raffaele, ti volevo fare una domanda un po' più, diciamo, specifica sul sottile, sul misterico, in un certo senso, che ci abita. Il sogno è immagine. Da dove nasce l'immagine? Perché esiste l'immagine? Che materia è l'immagine? L'immagine sostanzialmente ha una sua regione, l'area 8 del cervello, no? Dietro, dove c'è l'area calcarina, dietro al nostro cervello si può realizzare un'immagine che proviene dall'esterno, quindi dall'occhio, dal chiasma ottico che incrocia le fibre e poi si vengono distribuite a livello corticale e raggiungono l'area 8 del cervello, sono le cosiddette vie ottiche, poi c'è un'immagine invece che attinge a riserve differenti, che sono inconsce, che non sono riconducibili soltanto al cervello, al sistema nervoso centrale, ma sono quelle che appartengono a tutto il vissuto del corpo, oserei dire alle memorie muscolari, alle memorie articolari, alle azioni. Ecco perché quando noi parliamo, quando spesso racconto questa storia che già i nostri affezionati conoscono bene, che Ain è l'occhio in ebraico, che vuol dire da una parte occhio, cioè fotocamera, camera che riprende il mondo, e dall'altra parte invece qualcosa che attinge a una sorgente interna profonda e che utilizza le stesse vie per rendere visibile l'immagine a livello cerebrale. Non so se mi spiego. Quindi ci sono delle memorie che sono addirittura stoccate, questo lo sapeva molto bene Lowen, Willem Reich, che sono stoccate nei muscoli, nelle azioni fatte, nelle memorie osse. Quella è una memoria che è infinitamente più legata all'inconscio, perché tu lo sai che il corpo è molto più vicino all'inconscio, anzi oserei dire che è la sede privilegiata dell'inconscio, mentre dal collo in su alla testa le cose cambiano. C'è molto più conscio, cioè c'è molto più io nelle parti alte, molto più sé nelle parti basse. Allora, quando noi siamo di fronte a una crisi esistenziale, ed ecco un corso a che cosa serve, io come faccio a interpretare solo meccanicamente, cioè con la corteccia, quello che sta accadendo, e ignoro totalmente la stragrande delle mie dimensioni importanti che sono invece nel corpo e che parlano con immagini, immagini interne. Ecco perché, per esempio, mi viene in mente quella signora che quando parla di uscire da una relazione particolarmente conflittuale con il lavoro, dove le viene dato un lavoro che a sua madre piacerebbe, ma a lei non piace per niente, quando le affidano un ufficio, come ci è capitato, lei l'ufficio lo deve raggiungere tramite un ascensore che va sottoterra e a un certo punto tutti gli altri scendono, lei continua ad andare sempre più sottoterra, sempre più sottoterra, al punto tale che diventa claustrofobico, cioè quel lavoro ha un prodromo claustrofobico, si manifesta come un'esperienza claustrofobica, cioè non lo vuole fare, in qualche modo. Il sogno me lo dice chiaramente. Se poi lei per ragioni di denaro, di società, di adattamento al codice della famiglia, tutte queste belle cose, va contro il messaggio potente del sogno, perché è potente in quel caso lì, beh, mi verrebbe da dire Samala. Non so se mi spiego. Cioè Samala, perché il sogno è chiaro, anzi è chiaro, mi ricorda molto, hai capito, il film di Alan Parker, Angel Art, che continuava a scendere verso il basso, ma non raggiungeva mai la verità su di sé. E il sogno spesso è ambiguo in questo, cioè da una parte ti dice questo è il messaggio che arriva, dall'altra ti dice pure qual è la strada, vai in profondità, vai in profondità, così t'accorgi che cosa significa fare quell'esperienza senza raccogliere quello che veramente tu vuoi dalla vita. Lei vuole parlare ai bambini e trova un lavoro in una scuola superiore. Ragazzi, è vero che abbiamo bisogno di denaro in questo momento storico, però non abbiamo bisogno di ammalarci. Non so se mi spiego. Sì, benissimo, assolutamente. Il sogno va raccolto e tu prova a pensare se, adesso dico un delirio, però siamo sulla caure dove il delirio è materia quotidiana e quindi, ma in senso nobile, sto dicendo questo in senso nobile, pensa se, per esempio, uno che si occupa di personale si occupasse anche di questo. Se quando assumi qualcuno in qualche modo condivide con te un'esperienza inconscia e tu riesci a capire se quello ha voglia veramente di fare il lavoro e come lo farà, e questo in tutti gli altri ambiti, ecco perché questo mondo si sta ammalando sostanzialmente. e allora io vorrei portare nei corsi queste proposte di lavoro perché non ci sono poi dei metodi o dei codici severi, altrimenti finiremmo nell'ambito tradizionale, ma ci sono delle modalità per affinare delle intuizioni. Sapete che per Jung l'intuizione era una delle parti più importanti dell'umano? È per questo che Jung l'hanno tolto dalle università insieme ad Assagioli, perché un umano sa perfettamente quello che vuole a livello del sé, poi però si adatta costantemente a tutt'altro. Ecco, e il sogno non ha mai perso la sua autenticità, non lo può fare perché non attinge appunto come tu mi chiedevi prima, non attinge a delle riserve superiori, ma attinge direttamente all'esperienza del corpo fisico, quindi non può mentire, mai. Senti Raffaele, abbiamo chiamato questo corso di cinque essenziali puntate propedeutiche poi alla scuola uscire dal dolore tossico e guarire a 360 gradi, ok? È un titolo molto pratico in un certo senso. Pratico, sì. Uscire dal dolore tossico, ci sono dei dolori tossici che riguardano anche altre sfere, non solo quella emozionale, sentimentale, ma anche diciamo una condotta di vita che porta a una pesantezza, un dolore, un mal di vivere, diciamo una tossicità, e quindi affronterai tutti questi aspetti della tossicità nella vita e come liberarsene e guarire a 360 gradi. ci sono dei dolori sani che vanno integrati, affrontati e dei dolori invece inutili, diciamo questi tossici? Guarda, ti posso dare una risposta lapidaria. Il dolore sano che va affrontato è un dolore di disattaccamento, cioè bisogna imparare a non attaccarsi alle cose, all'esperienza, alle persone, cioè è il dolore dell'individuazione, quindi è il dolore del cambiamento va accolto, quello sì, quello è un dolore che va affrontato. Il dolore del cambiamento è diverso dall'altro dolore però, dall'altro dolore tossico, questo non è un dolore tossico, è un dolore depurante, epurante. Il dolore del cambiamento è qualcosa che nel momento in cui lo provi ti accorgi che stai migliorando, ti accorgi che stai recuperando qualcosa che hai perduto tantissimo tempo fa. Come dicevo qualche sera fa, quando noi moriamo e facciamo il viaggio negli inferi, che cos'è andare a fare il viaggio negli inferi secondo Cached, questo grande psicanalista? Il viaggio negli inferi è recuperare l'ingenuità, cioè sembra quasi che la vita ci tolga l'ingenuità e noi la recuperiamo, cioè ritorniamo ad essere quei bambini intuitivi e folli che sanno sempre quello che l'anima vuole, non quello che l'io vuole. Quindi, i dolori tossici sono quelli che appartengono alla coazione a ripetere, cioè sto sempre con quel marito, sto sempre in quel lavoro, sto sempre con questa medicina. i dolori tossici sono le ripetizioni meccaniche che poi possono essere psicologiche, ma poco cambia, perché se io da un attaccamento ambiguo a una persona che continuo a frequentare, ma che non amo più, mi sgorga un'ulcera, duodenale, capisci, o addirittura una colite ulcerosa. E perché dovrebbero proprio queste, è interessante, perché hai nominato proprio queste patologie? Perché guarda, sulle mucose si vedono sempre le manifestazioni più tipiche di quello che dobbiamo scegliere per fare in modo che diventino noi stessi, l'assorbimento e quelle cose da eliminare. Scelta o eliminazione? Scelta o eliminazione? Questa è una cosa che il nostro intestino, le nostre mucose fanno costantemente. Per cui ecco, la dipendenza e la contradipendenza. Non sopporto essere dipendente, ma non riesco a fare a meno dell'altro. Questo molto spesso si manifesta nelle ulcere, diventa un conflitto visibile attraverso il sanguinamento. Da una parte la volontà di agire, il sangue, e dall'altra parte il tentativo di chiudere quella ferita. Eccolo qua. E continuiamo così. È sempre questo che mi ha affascinato proprio delle funzioni degli organi e di tutti i nostri apparati. Cioè, questo nostro, nella società moderna, considerare delle funzioni staccate che riguardano solo il corpo, e non considerare invece che una funzione, cioè, come hai detto tu, la mucosa decide in qualche modo, è adibita ad assorbire oppure respingere. Esatto. E quindi, quando io, nella mia vita, devo integrare, assorbire qualcuno, decidere se assorbire qualcuno o qualcosa, oppure respingerlo, questo direttamente, dici tu, incide su... Per esempio, guarda, soprattutto... È ancora pazzesco per una lettura molto materialista che abbiamo della vita. Mi fai anche... Io potrei cambiare, chiamare MT il paziente, io poi porterò dei casi, perché è molto importante vedere i casi. MT è un bellissimo ragazzo che io ho preso in cura da qualche anno e lui aveva paura di viaggiare in aereo, adesso è guarito, sta benissimo, fa il manager, se n'è andato in America, eccetera, eccetera. Che cosa accade? Nel momento in cui si è slegato da tutti i condizionamenti familiari, è un uomo molto capace, è molto in gamba nel suo lavoro, è sparita, è sparita, l'ulcera, è sparita completamente, no? Per qualche anno. Che cosa succede però? Dov'è l'intoppo della coazione a ripetere tra gli umani? Ecco che lascia la vecchia fidanzata, ma entra in relazione con una ragazza molto bella, con una ragazza affascinante, eccetera, che però ha un potente senso di possesso, no? Un potente senso di condizionamento, una limitazione totale, per cui quando lui se la porta anche nei luoghi sacri che sono quelli del suo lavoro, oppure della sua passione per il mare, questa donna porta un elemento che immediatamente riattiva la memoria della madre. La madre aveva quella modalità, ma lui con la madre aveva già fatto un bel funerale, ma non aveva esorcizzato totalmente dentro di sé quella sua predisposizione ad ascoltare troppo, a non prendersi veramente gli spazi sacri fino in fondo, e ritorna un principio, non dico proprio un'ulcera vera e propria, ma è come un promemoria, capisci? Diventa proprio quasi una sorta di richiamo, di un campanellino sul cellulare che ti dice guarda che qui siamo in un'area rischiosa, guarda che se tu fai entrare questa persona profondamente seduttiva da un certo punto di vista, diventa la porta di ingresso di un ritorno a quella modalità di sofferenza e io l'ho preso grazie a Dio in tempo perché lo conosco, ecco perché il percorso precedente mi permette di andare a riprenderlo nel bosco, oppure in un girone dell'inferno e dire ah ti ricordi che abbiamo fatto questi passaggi e tu te ne sei liberato, questo non significa liberarsi della ragazza, significa liberarsi della relazione tossica che nasce con quella ragazza, quindi fare in modo che anche quella persona non ha lavori su se stessa per evitare di innescare sempre delle relazioni di dipendenza contro dipendenza, di controllo, di auto etero controllo e noi siamo sempre in bilico, hai capito, tra il lavoro dell'anima che vuole essere libera e quando è libera l'anima non è mai cattiva, è ovvio, e un lavoro invece con il mondo che è fortemente seduttivo, incontro una donna bellissima, una donna straordinariamente dolce nell'intimità, sì ma la vita è fatta anche di viaggi, di assenze, di dimenticanze, di telefonate, di questo, che lei ingigantisce fino a rendere ulcerante la mucosa. Ora perché tu mi dirai perché la mucosa? E questa è una cosa da spiegare bene, perché le mucose sono negli organi cavi, negli organi vuoti all'interno e gli organi cavi sono gli organi che meglio rappresentano l'accoglienza, poi in voi donne sfondo una porta aperta ovviamente, per voi ogni organo cavo è un utero, giustamente, purtroppo anche per noi uomini, per cui tutte le volte che accogliamo qualcuno che diventa cibo tossico per noi, splendido testo, cibo tossico, bellissimo, che è un testo di uno psicanalista gastroenterologo, bellissimo, che cosa succede? Che tutte le volte il conflitto lo vediamo proprio lì, dove devo accogliere, capisci? Ora, se io ti dico in che cosa può servire un seminario di questo tipo, non a cambiare la competenza di un medico, perché il medico sa perfettamente cosa sono le tai junction dell'intestino, le pompe intestinali, l'immunità intestinale, le placche di peie, non è quello che deve cambiare, deve cambiare la visione comprensiva, per usare il termine abusato, olistica, cioè in cui queste conoscenze ti fanno capire che chi ti porta un intestino, uno stomaco, un esofago, ti porta un organo che più di ogni altro ha a che fare con la scelta e l'accoglienza e lo deve tenere lì come sottofondo, anche se lavora in un ambulatorio in cui vede una persona nei dieci minuti, però deve in qualche modo tenere questo sottofondo e allora il suo atto diventa creativo, diventa molto più ricco, piuttosto che dare, hai capito, il farmaco antipompa piuttosto che l'antiacido o anche l'omeopata che lavora in modo meccanico, sì, magari ha qualche chance in più, però non è che può dare a tutti arsenicum album, perché se per esempio uno ha l'ulcera per paura di perdere qualcuno, gli dai a conitum, gli dai qualcos'altro, c'è più interpretazione. Ah, già, già. Ecco. Quindi questo questo seminario di cinque e cinque appuntamenti serve anche per acquistire uno sguardo nuovo, anche sia diciamo a tutte quelle persone che si occupano di terapia a livello di relazioni d'aiuto, esatto, di relazioni d'aiuto che anche a tutte quelle persone che semplicemente per passione, per ricerca, vogliono acquisire degli strumenti perché per esempio quando parli è straordinario, no? Cioè, è vero che il muco c'è negli organi cavi, ma non avevo mai, non ci avevo mai pensato, per esempio. Cioè, è vero, il naso, la bocca, la vagina, ci sono delle cavità e il muco si trova sempre lì, si trova lì. Ma non avevo fatto questo passaggio, questa associazione, no? Guarda, adesso non è per dire, io non voglio dare dei segreti, ma perché sono segreti di pulcinella, se sei curioso, non con la curiosità scimmiesca, cioè di farne qualcosa di ciò che impari, ma più che altro per conoscere meglio te stesso. C'è un vecchissimo massaggio cinese, no? Che viene fatto per riattivare l'olfatto sul naso, ma straordinariamente questo ha un effetto molto positivo, scusate, sul pene. Cioè, se io per esempio devo riattivare una funzione sessuale che si è un po' impigrita per tante ragioni, poi se si impigrisce qui c'è da aprire la tre canie, perché se si impigrisce vuol dire che il problema potrebbe non essere solo nostro, ok? Oppure è nostro per il fatto stesso che non accettiamo le trasformazioni della vita. però c'è proprio questo massaggio straordinario che riattiva immediatamente la libido maschile, per esempio, e si viene fatto sul naso, ok? Allora, che cosa ti... Perché? Perché viene fatto sul naso? Ma perché ti sta richiamando a una cosa simbolicamente molto importante, cioè che il naso non ha stazioni intermedie, cioè noi non possiamo interferire con la cultura sull'olfatto. Lo sanno bene quelli che quando arriva un segnale olfattivo particolarmente disturbante perché va ad attivare qualcosa nell'inconscio non disgradevole ma di difficile da interpretare, ecco, perché per me l'olfatto è l'antenna della vita, nel momento in cui arriva questo segnale non ci sono stazioni intermedie, cioè questo bulbo olfattivo è a pochi millimetri dal cervello, quindi come fai a bloccarlo? Quindi che cosa ti sta dicendo il pene è il naso? Fidati del tuo olfatto, fidati di qualcosa di molto primitivo che non ha mediazioni culturali, che non ha mediazioni di metodo, che non ti dice quella che piace a tutti quindi piace anche a te. A me invece può piacere una bella donna fuori peso di 60 anni che vive al piano terra e non devo chiedermi perché, perché il corpo lo sa e quindi il naso diventa l'antenna di questo aspetto, ecco perché è molto legato al pene, perché come dice un vecchio detto che secondo me non è affatto volgare napoletano, dice che quella parte del corpo non vuole pensieri e quando dice non vuole pensieri non vuol dire soltanto non vuole pensieri preoccupazioni, non vuole che intervenga il pensiero, non vuole, vuole che lì ci sia soltanto l'ho fatto, capisci? Ecco, perché a volte curandoci il raffreddore ci ritroviamo ad avere un'erezione, scusate, ma non è un effetto collaterale negativo, ma ci fa capire che tutto quanto è collegato, no? Capite? È fondamentale questo aspetto, così come a volte possiamo con un massaggio alle orecchie riattivare l'energia del rene e quindi farci sparire o mitigare moltissimo le crisi di panico. E perché? Spiegamelo perché l'orecchio rene. Se noi guardiamo il rene e l'orecchio si somigliano da matti, quindi per la medicina analogica, e questo Ippocrate lo sapeva benissimo, così come lo sapeva Lao Tse, come tutta la medicina cinese, l'orecchio e il rene sono due fratelli che si parlano costantemente, tant'è vero che quando io ho un vuoto di rene avrò le vertigini, capisci? Ecco, e il vuoto di rene non è una malattia del rene, il rene potrebbe funzionare benissimo, fa un po' più di pipì del normale e sostanzialmente, come posso dire, si scarica la pila del rene, non è che il rene non funzioni più, tutto questo nella medicina ufficiale non esiste, perché se io vado con le vertigini prima di tutto il rene manco lo considerano, tanto per cominciare, ma poi soprattutto ti fanno un esame del sangue se tu magari gli dici guardi, sono stato dal logopuntore che mi ha detto che io ho un vuoto di rene, quello ti guarda con una faccia attonita e poi gli dici vabbè, facciamo gli esami del rene e gli esami del rene vanno benissimo, la creatinina va benissimo, questo non toglie che invece il rene sia svuotato da che cosa? Per esempio da paura, per esempio proprio da un lavoro che tutti i giorni mi spaventa perché non lo amo. E ancora una volta martello, in questo senso, e perché il rene è collegato alla paura? Il rene è collegato alla paura per la semplice ragione che è legato al mondo delle acque quindi le acque e quindi l'acqua e l'emozionalità e la luna ma sostanzialmente perché il cappuccio, il cappello del rene è proprio la fucina degli amori degli ormoni della paura cortisolo, adrenalina, noradrenalina cioè quando io devo scappare da un leone che ruggisce io metto in atto le ghiandole su renali e nella medicina cinese il surrene non è separato dal rene è un tutt'uno è una renalità che la medicina ufficiale non contempla invece quella non è nient'altro che la fabbrica della paura e a noi serve la paura sì in dose serve ovviamente però molto spesso quando siamo posti in condizioni critiche la attiviamo laddove non deve essere attivata per esempio nei meccanismi di dipendenza non lascio questo marito perché è l'unico marito che ho e se poi non ce l'ho cosa faccio da sola e dico benedetto Dio incomincia a vedere che sola non sei perché siamo in sette miliardi e mezzo e in secondo luogo hai sempre te stessa che è la struttura della quale sei responsabile di cui sarebbe meglio innamorarsi e allora cominciamo a produrre meno ormoni della paura ma proprio perché quegli ormoni lì sono quelli dell'attacco e della fuga capisci e sono proprio lì sopra quindi tanto più ieri parlavo con Giorgio no appunto rispetto a con Giorgio Rossi rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto a livello di paura e adesso ci sarà un'altra paura legata alle bollette alle risorse che non ci sono alla miseria che sta arrivando tutte cose già predette da da voi relatori e Giorgio mi diceva non è che se dopo domani c'è la pace con con la Russia e tutto torna come prima è finito tutto nel senso il trauma c'è stato il danno c'è stato in un certo senso Maya si è svelata nella sua illusorietà e questo provoca un cambiamento cioè il mondo di prima non ci sarà mai più mai più è vero e noi e noi siamo cambiati rispetto alle illusioni di sequenza e di sì e guarda ti posso dire una cosa tu come la vedi appunto a livello anche di malattie che arriveranno disturbi di fragilità di le malattie per esempio che potrebbero aumentare in questo caso sono le malattie autoimmuni quelle che di solito generano un conflitto tra ciò che è tra il mondo esterno e il mondo interno ok quindi le patologie autoimmuni che già sono in aumento come l'artrite reumatoide la sclerosi multipla il lupus eritematosus eccetera noi dobbiamo tenere conto che la storia ha una immensa responsabilità in questo caso sai che lo dico da tanto questa faccenda ma quello che dice Giorgio è sacrosanto e io lo vedo quotidianamente sai dove nelle diagnosi e soprattutto nelle prognosi che non sono delle prognosi sono delle nemesi per cui che cosa succede a me è capitato anche di recente che a qualcuno venga detto ah beh guardi con questo quadro lei ha una leucemia mieloide cronica ok e questo che è un pugno nello stomaco tipico di quest'epoca perché fino a 30 anni fa non era così è qualcosa che crea una risonanza esattamente come diceva Giorgio che durerà anni all'interno di quella persona il mio lavoro sarà di anni per smaltire quella diagnosi rivelatasi poi errata perché si trattava di una banale infezione da graffio di gatto ok allora io aspetterei un secondo prima di dire leucemia mieloide cronica se poi ho un'infezione da graffio di gatto perché è chiaro che i linfonodi possono far pensare a ma ragazzi miei c'è un abisso tra le due cose ora io dico guardi non era niente caro mio e gli do quello che in quel caso ha a disposizione la medicina ufficiale io gli darei tutt'altro ma non fa niente e lo mando a casa ma io ho messo nell'inconscio nel momento in cui avevo praticamente le braccia aperte ok posso dire una volgarità anche le gambe aperte ero lì pronto a tutto a darmi completamente e arriva una freccia di un siu che mi penetra in questo modo e crea una lacerazione che dura anni perché entra direttamente nell'inconscio io ero lì ad aspettare un conforto che poteva anche essere dato anche nel caso della leucemia poteva essere dato perché si poteva creare un bel prodromo ecco perché io a volte parlo molto perché creo dei prodromi cioè attutisco magari a volte una brutta notizia perché arrivano le brutte notizie è chiaro però bisogna saperle dare per non trasformarle in una nemesi e allora la storia ci sta rendendo sempre più fragili e tanto più siamo fragili e tanto più siamo a braccia e gambe aperte pronti a farci sodomizzare dall'informazione per cui in buona parte la storia ha una responsabilità ma moltissima ce l'ha la narrazione mentre noi stiamo parlando mi è uscita una targhetta di una comunicazione che arriva chissà da dove da quale portale dove mi diceva riusciremo a sopportare l'aumento delle bollette ecco tu capisci io sto parlando con Elisa Martinelli gradevolmente di una serie di seminari e mi arriva una minaccia che anche se io non leggo entra comunque nel mio inconscio perché non so se lo sapete ma la porzione laterale dei nostri occhi coglie tutto tant'è vero che i soldati vengono molto allenati a guardare molto meglio con le parti laterali dello sguardo che con le parti centrali perché il predatore viene di fianco e se io mi sento predato divento di una fragilità infinita è questo e questa è la fabbrica delle malattie poi ognuno sa noi la chiamiamo in modo complicato meglio fragia ma oserei dire una fragilità di settore ecco in cui io personalmente magari mi faccio una cefalea grappolo tutti i mesi e mi va anche bene no? altri invece magari slatentizzano patologie più complesse allora per me è importante proteggerci perché il mondo del futuro ha capito che ci può minacciare e rendersi infinitamente più docili all'addomesticamento eh però se io mi lascio addomesticare e non sono più libero l'anima non si esprime e la malattia è dietro le porte grazie Raffaele davvero adesso faremo altri appuntamenti con delle domande invitiamo anche tutti gli abbonati che hanno il numero riservato della libreria a fare domande e lanciarci degli spunti per per dei nuovi argomenti va bene allora è importante grazie Elisa e vi invitiamo a questo corso che partirà adesso le date ve le metteremo sotto e si chiama uscire dal dolore tossico e guarire a 360 gradi con Raffaele Fiore ciao a tutti grazie ciao 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 sono aperte le iscrizioni al seminario formativo di Raffaele Fiore uscire dal dolore tossico cinque appuntamenti online a partire da domenica 30 ottobre per info e prenotazioni rimandiamo ai link sotto al video o nel primo commento oppure su www.cavoresoterica.it alla voce eventi e corsi online grazie a tutti